Jin Kazama, la tua forza non basta per sconfiggere quel demone. Ascoltami, devi seguire le parole di Zafina. È importante che tu torni all'origine. Jin, o maiには o maiだけがなせることがある. 君はもう一人じゃない. 我々にも花を持たせてくれた Mari. Ascoltami, non basta. Non basta. Niall, non basta. Ho, hai. Jin, io andai. Jin, tu non ti senti. Ho, hai. Ho, hai. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.